Non siamo scienziati, non abbiamo lezioni da dare, non conosciamo soluzioni, chiediamo solo che della terra dei fuochi ci si prenda seriamente cura, senza imbrogliare, senza ingannare, senza rubare il pane ai poveri per farlo mangiare a sbafo ai figli dei ricchi, senza costruirci sopra campagne elettorali. Lo scrive su Facebook Don Maurizio Patriciello che da anni lotta per chiedere una soluzione per la cosiddetta terra dei fuochi, aria compresa tra la provincia di Napoli e Caserta. Le sue dichiarazioni riportano alla mente le parole di Gigi D'Alessio sul palco di piazza del plebiscito alla notte dell'ultimo giorno dell'anno. D'Alessio in quella circostanza ha detto che questa non sia più la terra dei fuochi ma la terra dei cuori e dei suoni, aggiungendo che secondo i dati solo l'1% del territorio risulta inquinato. Dichiarazioni alle quali sono seguite quelle del presidente della regione Campania Stefano Caldoro che ha affermato sempre su Facebook la terra dei fuochi continua a essere una nostra priorità e una comune, forte e quotidiana preoccupazione, ma oggi abbiamo voltato pagina. Ma Don Maurizio Patriciello non ci sta e aggiunge, solo oggi, sabato 3 gennaio, minore e morto un giovane di 42 anni, a Succivo una mamma di 55 anni, mentre Marcianise piange un'altra mamma di 44 anni appena. L'appello l'ennesimo di Don Maurizio a prendersi cura della terra dei fuochi nasce proprio da qui, dalla tragica conta delle persone morte per patologie tumorali. Non a caso Don Maurizio scrive ancora su Facebook cancro, cancro e solamente cancro.